Mi sei in conferenza stampa, un passaggio fondamentale del suo arrivo a Teramo ci ha colpito. La rabbia per essere stato fuori dal mondo del calcio per qualche mese, è questo l'ingrediente che porta Guido Golotti a Teramo? Beh, è anche questo, nel senso che io non mi sono mai spaventato delle situazioni, perché quando un allenatore sta fuori è normale che spera sempre di essere chiamati in situazioni più semplici, ma quando le situazioni sono semplici non si cambia l'allenatore, si va avanti con gli allenatori, si subentra in situazioni difficili, in situazioni che sulla carta possono essere molto complicate, tante volte si riesce a dare una svolta, tante volte non si ci riesce. La rabbia che uno porta è del fatto di rimanere fuori, perché uno ha piacere a fare questo mestiere, di conseguenza quando non vengono i risultati e quando non squilla il telefono noi viviamo di questo, di conseguenza uno cova dentro, va a vedere partite, cerca di documentarsi, però poi alla fine ti manca il campo e poi devi andare sul campo e cercare di dare quello che tu pensi, quello che vuoi trasmettere a questa squadra. Questa situazione quanto complicata è? Sulla carta è abbastanza complicata, la classifica la parla chiaro, questa è una squadra che in questo momento ha una partita in meno, però è penultima, la zona salvesa è lì a pochi passi, ci sono tante partite da giocare, partite difficili, a partire dalla prossima in casa col Sul Tirole, di conseguenza c'è da, sulla carta può essere un'impresa, però il calcio è bello per quello, perché riserva mille sorpresi, io mi auguro che questa sia un'avventura a lieto fino. Ci vorrà un ugolotti più fine psicologo che fine stratega, almeno all'inizio? No, c'è da lavorare, c'è da lavorare perché questa squadra deve giocare su dei ritmi diversi, si ha le capacità di poterlo fare, deve mettere in campo un po' più di rabbia, deve essere più aggressiva, di conseguenza c'è da lavorare, poi se sono, magari fossero solo problemi mentali, cioè nel senso che uno va, parla con i giocatori e si risolve la problematica, no, tante volte c'è da trovare, c'è da fare dei risultati, i risultati sono la medicina migliore. La Rosa, la vista, la conosce parzialmente e come la giudica? Adatta per un obiettivo come quello della salvezza? Io penso di sì, altrimenti non avrei accettato.